Torna il mercoledì, torna allo spazio dedicato al volley, partiamo dalla Serie 1 femminile arrivando sino alla Serie B1 femminile andiamo comunque a controllare quattro campionati dove ci sono in lizza formazioni bergamasche partiamo dalla Serie 1 femminile dove il momento sicuramente non è positivo per il volley bergamo era uno scontro diretto, ci si aspettava il risultato positivo invece è arrivata una sconfitta netta contro Busto Arsizio fra due formazioni che erano terzultime o se vogliamo penultime in classifica eppure Bergamo si era portata sull'1-0 vincendo il primo set per 27-25 ma subito il secondo cade nel baratro perdendo 25-15 poi tirato il terzo set ma lo si perde per 26-24 e poi 25-22 dalla vittoria che per tre punti alla formazione Busto Arsizio e se la squadra Bustocca dopo il saluto di Velasco che è andato ad allenare la nazionale risorge Bergamo cade di nuovo nel baratro e resta ancora penultima in classifica, ricordiamo sono due retrocessioni e andiamo a vedere i risultati che oltre al volley bergamo ci sono Casalmaggiore Pinerolo 0-3 Conegliano Vallefogli a 3-0, Cuneo Milano 0-3, Firenze Chieri 3-2, Scandicci Novara 3-1 e Trentino Roma 0-3 La classifica ora propone Conegliano in vetta sempre a punteggio pieno 11 partite e 33 punti per la forte formazione Veneta poi Milano a 28, Scandicci 27, Novara a 24, Novara che sarà il prossimo avversario del volley bergamo Chieri 19, Pinerolo 17, Roma 16, Firenze 14, Vallefogli a 13, Busto Arsizio 11 punti, Cuneo 10, Casalmaggiore 9, volley bergamo 8, Trentino 2 Passando alla Serie 2 non sta sicuramente meglio, anzi sta peggio la formazione di Costolo Pino l'altra squadra bergamasca, la CBL che milita in Serie A perde per 3-0 in casa lo scontro diretto per la salvezza contro l'ex Fanalino di Coda, Melendugno e Lecce insomma neppure gli arrivi della Campos e anche del Libero Gay riescono a dare manforte a questa squadra anche loro non hanno ottenuto ancora punti e adesso la classifica diventa veramente preoccupante per la salvezza in Serie 2 non sogniamo più di entrare nelle prime 5 in classifica ma addirittura si reschia la retrocessione già al primo anno di Serie A i parziali dopo un primo 6 combattuto 26-28 per Lecce si perde 17-25, 16-25 praticamente senza storia e a fine partita siamo andati a sentire uno sconcertato direttore generale Rovi Dell'Orto sicuramente anche visto l'inizio che abbiamo fatto vincendo 3 partite su 4 ci auspicava e credevamo tutti in un campionato diverso da quello che stiamo vivendo oggi sicuramente la squadra è in indubbia difficoltà adesso siamo consapevoli che il fardello delle sconfitte che abbiamo inanellato pesa però anche oggi abbiamo fatto delle scelte tecniche sul finale del primo set non ottimali sicuramente perché la possibilità per vincere il primo ce l'ha tutta dando un massacro a livello di classifica che diventa difficile anche il proseguo nella seconda fase sicuramente ci stiamo cercando un rinforzo sul mercato perché secondo noi alla fine ci manca un po' un ruolo che è l'opposto da avere una situazione un po' più solida perché sta giocando Nadia Rossi che nello scorso che aveva in B1 ha fatto dei passi non da gigante di più molto brava sta facendo benissimo però probabilmente adesso in questa situazione ci serve una spinta maggiore i risultati di fine settimana sono Costa Volpino Lecce 0-3 Cremona Ermania Olbia 3-1 Mondovì Balducci Macerata 2-3 Marignano Montecchio Maggiore 2-3 Piccolecco Fanengo 1-3 la classifica vede Balducci Macerata Lantesta quota 30 Montecchio Maggiore 26 insieme a Marignano e a Cremona poi Mondovì 18 Fanengo 13 Lecco 12 Lecce 11 Olbia 10 e CBL Costa Volpino Fanarino di Coda con 8 punti e passiamo alla serie B maschile dove perde la prima volta un punto la formazione dello Scanzolo Sciate resta comunque saldamente in A in vetta alla classifica ma nella trasferta difficile contro il Cazzagola DC Brescia vince soltanto per 2-3 facciamo così per dire la formazione dello Scanzolo Sciate i parziali 26-24 25-23 dunque si era sotto per 2-0 un certo punto poi rimonta grandissima deformazione bergamasca con 22-25 23-25 e 15-17 il tie break da notare che per Cazzago il grande ex di turno Riva ha totalizzato 36 punti cercando di battere i suoi ex compagni mentre Falgari d'altra parte c'è dalla formazione bergamasca ha totalizzato bene 29 punti bene anche le altre formazioni bergamasche partendo dall'Alme Villa che batte Fedra Bolore per 3-1 allontanandola negli ultimi posti di classifica e poi bene anche Grassobio che si porta a casa 2 punti dalla trasferta di Limbiate 3-2 per l'altra formazione bergamasca che è il terzo posto in classifica ma andiamo a vedere proprio i risultati con Montichiari Stella Azzurra 3-0 Desiubilianza vero Monza 2-3 Radici Cazzago Scanzolo Sciate 2-3 Alme Villa Fedra Bolore 3-1 Valtrompia Bresso 0-3 e Limbiate MGR Grassobio 2-3 ha riposato crema volley la classifica Vede Scanzolo Sciate la Invetta a quota 26 Monza 19 Grassobio a 17 poi Cazzago a quota 16 Bresso e Montichiari a quota 15 punti Alme Villa da sola a 14 punti Desiubilianza a 13 Valtrompia 12 Crema Rimbiate 11 Stella Azzurra 6 e chiude l'altra formazione Sarda Fedra Bolore a quota 5 quelle con l'asterisco hanno già osservato il turno di riposo e andiamo a chiudere con la serie B1 femminile ferma il Brembo Volley ho osservato il turno di riposo la squadra di Brembo scesa in campo il Don Coleoni che in casa batte il Capodorso Palau per 3-2 dunque partita sofferta tirata contro un'altra formazione comunque di alta classifica quest'anno la squadra Sarda si sta impegnando molto bene nel campionato di serie B1 i parziali sono stati 15-25 25-20 19-25 poi 29-27 e 15-13 per la formazione di E3 Score i risultati sono stati cambiati a Moncalieri 3-0 Club Italia Parella Torino 1-3 Concorezzo Volpiano 3-0 Don Coleoni Capodorso Palau 3-2 Focol Legnano Agil Trecate 3-1 Libello Labrà Villa Cortese 3-2 abbiamo detto riposato Brembo Volley la classifica di E3 Concorezzo l'ha in testa con 28 punti più 5 rispetto a tante altre formazioni ma anche a queste formazioni ha una partita giocata in più Concorezzo Legnano segue a quota 23 come Don Coleoni di Trescore a quota 19 Volpiano a quota 16 poi Capodorso Palau Villa Cortese cambiate a quota 15 poi Libello Labrà 14 apre la fila delle ultime 5 Parella Torino a quota 8 Clavitalia 7 Trecate e Moncalieri anche loro insieme a Clavitalia 7 punti chiude purtroppo la formazione bergamasca il Brembo Volley con 5 punti con 5 punti con 5 punti di Brembo Volley con 5 punti